in giro per l'europa si sta giocando la champions league ma i nostri occhi sono concentrati su octopus eventi futsal che si gioca qui a g sport village con le due squadre che sono pronte a darsi battaglia per oltre 50 minuti bianchino va lunga la sponda all'indietro balloni che torna il capitano degli eventi futsal che va col destro il miracolo di polacco che manda in calcio d'angolo lycata a lottare con rossi chiude tutto medina che va da rua rua davanti al portiere rua segna il gol dell'uno a zero che sblocca il match e porta avanti l'octopus sbardella in mezzo da medina che non riesce ad andare in porta rossi con un super gol segna il gol del 2 a 0 raddoppia l'octopus è messa la terra alla fila da bianchino il cross della numero 10 ballone che rimane in campo bianchino da mozzetti prende in pieno sbardella il pallone rimane lì carnevale si gira la respinta di polacco a dire di no carnevale va di tacco da vassallo pallone ancora per carnevale con la punta la respinta di rua bianchino prova col destro polacco a dire di no poi vassallo col ginocchio accorcia le distanze segna il gol del 2 a 1 riparte l'octopus con medina le finte di medina che va col mancino e non trova lo specchio dopo una gran giocata l'icata la sponda il pallone in mezzo e c'è il gol del 2 a 2 c'è il pareggio delle venti futsal l'icata la sponda il tiro e c'è la deviazione di rua con il gol del 3 a 2 per le venti futsal la ribaltata la squadra oggi con i fratini sbardella va da medina pallone che arriva a rua in mezzo a tre maglie ruo va col mancino non trova lo specchio pallone in mezzo per carnevale si gira carnevale va col destro sorprende polacco e segna il gol del 4 a 2 medina va da rua rua prova col mancino la respinta di mozzetti con le mani calcio di rigore octopus calcio di rigore octopus parte rossi col mancino fortuna la tiene lì carnevale allargata di stefano lo stop di di stefano che torna da vassallo vassallo per carnevale l'1-2 vassallo la respinta provvidenziale di polacco calcio di punizione affidata a fiore che va in porta la respinta di vassallo poi rua non inquadra lo specchio lancio lungo di mozzetti rua non controlla il pallone arriva a carnevale di tacco da di stefano di stefano col sinistro la respinta di polacco fortuna va lunghissimo da licata rossi di testa a servire sbardella medina medina di nuovo da sbardella che va col mancino ma non inquadra lo specchio pallone che arriva a licata licata col tacco per di stefano chiude tutto fiore dribbling di fiore che avanza palla al piede medina chiude tutto di stefano e su questo contrasto l'arbitro dice che non c'è più tempo l'eventi futsal batte 4-2 l'octopus si rimonta e conquista tre punti importantissimi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.